Sì, non c'è un comando di un carro. Aspetta! Non mi sono messo gli occhiali. Sì, è entrato subito un bello di questione di una roba. Ecco il canale a vedere. Mi sono messi a posto. Sono su di qua. E niente, a piedi. Se vuoi stoppare, ci vengono scoppiati. Io non fido nemmeno giù. Andiamo giù piano piano. Andiamo giù piano piano. Ciao ragazzi. Stiamo risultati all'ultimo. Ma adesso andiamo giù piano piano. Ciao ragazzi. Ciao. Oh Avanti, avanti Scusa, andiamo giù di qua Eh, di qua Credo, no Solo so Scusa, andiamo giù Scusa, andiamo fuori dalle bale Scusa, andiamo fuori dalle bale ma devono mettersi la mascherina quando viene scolta, effettivamente andiamo per di là ma l'hanno spianato in un modo violetto non c'è più niente del sentiero che conoscevo ci stanno facendo male insomma hanno portato più l'acqua non c'è più il sentiero? è più o meno ma mi viene il dubbio che non l'abbiamo neanche preso giusto vabbè dai forse era più su ma questo non esisteva niente a meno che non l'abbiano distrutto per fare questo qua purtroppo no poi dovrai andare più su? ma dopo bisogna andare io andrei anche giù proviamo anche questa nuova catorce di strada che hanno fatto non c'è nessuno 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 e si vedi hanno questo è il sentiero un po' E' da un attimo. Ah no. Un attimo. Un attimo. La famosa salita. Un attimo. 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 Un attimo.